Allora, io prima di parlare della partita ti chiedo l'emozione nel tornare qua. Eh, è sempre bello tornare qua, dai, conosciamo Bergamo, poi il Palasteto ci ha fatto sei anni, quindi è bellissimo. Poi questo taraflecro rosa veramente ricorda un po' lo studiato dell'anno scorso. Una grande, una grande vittoria. Sotto 2-0 avete recuperato, diciamo, lo scossone di Pavia. Vi siete riprese subito. Eh, diciamo che abbiamo risalto maluccio, poi state brave a riprenderci mentalmente più che altro perché facciamo un po' troppi errori. Abbiamo smesso di fare tanti errori, abbiamo preso il nostro ritmo, quello che è importante per noi adesso. E adesso avete raggiunto, in questo momento, anche se ovviamente ci sono gli altri match da recuperare, 27 punti in classifica, mi sembra, per come era partita la stagione. Eh, diciamo che ci servono, ci servono i punti. Sì, anche perché l'ultima partita l'abbiamo persi, abbiamo giocato malissimo, non ci aspettavamo questa partita. Tu non eri andata male però nell'ultima partita, nonostante la sconfitta. Fattimo andare meglio. No, vabbè, si fa di meglio. E comunque siamo contenti di questi due punti, assolutamente. Laki, che siamo in chiusura. Una grandissima prestazione di squadra, ottima la Ferretti dietro, ha aspirato qualsiasi tipo di pallone. Siete crescite molto nella fase punto e soprattutto quando funzionate sulla palla alta, sono veramente dolori per la squadra avversaria. Infatti quello che è mancato è proprio nel primo set, questa cosa. Quello che abbiamo preso il cambio palla, abbiamo difeso anche un po' di più. Dobbiamo ancora migliorare sulla difesa, dobbiamo ancora fare qualcosa di più. E adesso sono arrivate anche Manzano e Cugnesca, sia a muro ma anche in attacco, che vi hanno dato la mano. Assolutamente sì, standalo. E noi ti ringraziamo, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria. E anche per i play-off in bocca al lupo, perché ormai siamo lì. Siamo lì, siamo lì. Grazie sereno.